Edalata ha perdifiato fino alla sosta che mai, quant'ora, negli anni recenti ha rappresentato per l'Inter un beneficio inestimabile. Giocatori che possono recuperare per la prima volta tanti assenti ma altrettanti disponibili. Tra loro una formazione intera, compresi Maicon, Lucio e Samuel, che formeranno il nucleo di una difesa chiamata a ricompattarsi dopo gli 11 gol appresi in 5 partite di campionato. Zanetti e Cambiasso, senatori imprescindibili, le definisce Ranieri anche per atteggiamento e conoscenza dell'Inter, hanno possibilità di riposare e opportunità di accompagnare Poli verso la prima, di preparare al loro fianco uno spazio a Tiago Motta, che svolge ancora solo parte del lavoro con il gruppo, ma sta bene. Sta molto meglio Milito ed anche lui c'è come Zarate e ci sarebbe anche la luce se Snyder tornasse in gruppo. Ranieri insegna ai reparti a muoversi come fossero un unico uomo, ma solo con l'olandese, eletto faro della squadra dall'allenatore, il cucito sarebbe perfetto. Anche aspettando i nazionali e Pazzini costretto alle terapie dal dolore al tallone. Quella con il Lugano dell'ex Moriero è solo un amichevole, eppure è anche la prima e ultima prova verso la rimonta da tentare, la prima del nuovo corso dopo due settimane in apnea. Da Piano Gentile per Sky Sport 24, Silvia Vallini. Grazie.